essere padre che cosa significa essere padre ritrovarsi padre riscoprirsi padre sono diventato padre e ora come lo dico mia moglie oggi apriremo un ciclo un va de me cum per padri dal titolo il fenomeno del padre dieci micro lezioni per fare sentire tutti i padri un po meno soli inadeguati per carità questo il compito fondamentale della psicanalisi ma meno soli capire insieme quale sia la figura del padre oggi ormai è caduta no la figura del padre padrone quello che in tutto e per tutto voleva un suo figlio a sua immagine e somiglianza quello che lo plasmava quasi come se fosse creta nelle sue mani ho avuto molti padri così in analisi recentemente ho avuto anche dio che mi ha chiesto dottore come mai da duemila anni a questa parte mio figlio preferisce passare il suo tempo più spesso con giuseppe che con me ho risposto egregio è ovvio che non basta generare la vita per essere padre il padre è quello che adotta la vita è quello che cresce la vita giuseppe era lì in ogni momento era lì ogni volta che si ficcava per sbaglio una scheggetta sotto l'unghia quando piangeva piangeva non gridava ed era lì era lì quando bisognava cambiare i pannolini si è incazzato quando ha scoperto che bastava che schioccasse le dita per pulirsi lì da solo ma era sempre presente ma torneremo su questo ecco il fenomeno del padre ecco cosa voglio spiegarvi in questa piccola micro lezione questo flash questa fotografia molto semplice per essere un padre non basta essere un fenomeno a letto il fenomeno del padre è un evento intrinseco al padre che si innesta una consapevolezza tale per cui il padre si sente dire da una voce interiore motelo smazzi motelo smazzi con amore ovviamente motelo smazzi con amore molto difficile smazzarselo con amore molto difficile smazzarselo con amore sempre parlando di figli ecco che possiamo già vedere l'errore di molti padri alcuni padri se lo smazzano senza amore altri danno molto amore ma perché non se lo smazzano grazie mille